È stata un'altalena di emozioni con la pioggia del Valentino Mazzola a rendere unica l'atmosfera di San Cataldese Trapani, partita valida per il ventisesimo turno del girone I di Serie D. La giornata Verda Maranto, indetta dalla società per l'occasione, è stata declinata in festa, Verda Maranto, dalla recita di qualità dei ragazzi di Infantino capaci di superare il Trapani a margine di un emozionante 3-2. Prima parte di match a favore dei padroni di casa, avanti per 2-0, ma la rete nel finale di tempo ha rianimato le speranze dei Granata, bravi a ottenere, pronti via nella ripresa il pari. Ma è soltanto un'illusione perché nel momento più delicato è arrivato il gol di Dagata a vidimare la vittoria della San Cataldese per 3 reti a 2 contro un Trapani Maidomo. Una vittoria preziosissima che fa volare Verda Maranto in settima posizione a 37 punti in classifica a soltanto 3 passi dalla zona playoff. Questi i risultati della ventisesima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Castrovilla-Rilocri 0-1, Cittanovese-Vibonese 1-1, Città 10-Reale-Ragusacalcio 1-1, La Mezzia-Terme-San Luca 1-1, Paternò-Mariglianese 2-0, Realla Versa-Santa Maria Cilento 4-1, Canicattì-Licata 0-0, Città di Sant'Agata-Catania 1-2, San Cataldese-Trapani 3-2. Per una classifica che continua a vedere il volo indiscusso in prima posizione del Catania a 69 punti, Locri 52, Città di Sant'Agata 48, La Mezzia-Terme 41, Licata 40, Trapani 39, San Cataldese 37, Vibonese 35, Santa Maria Cilento e Canicattì 34, San Luca-Ragusacalcio-Castrovillari 29, Città 10-Reale 28, Realla Versa 27, Cittanovese e Paternò 24, chiude la Mariglianese a 17 punti.